Bojan Korkic è stato l'eroe mancato della semifinale di Champions League del 2010, dalla parte del Barcellona. Segnò un gol, annullato, che poteva valere lo 0-2 e il passaggio in finale dei catalani ai danni dell'Inter. Quando la palla entrò mi sentì felice, ma poi mi accorsi che qualcosa stava succedendo, dice a marca l'attaccante spagnolo, la sensazione che c'era nello stadio e nei giocatori non era proprio di entusiasmo. Così mi accorsi che avevano annullato il gol. Era un passaggio chiave perché chiudeva la rimonta e ci mandava in finale di Champions, una finale speciale perché si giocava al Bernabeu. A volte mi hanno detto cosa sarebbe successo se avessero dato il gol, ma non mi sono mai chiesto come sarebbe stata la mia vita. Semplicemente non fu convalidato perché non dovevano convalidarlo.